Poi Giulia grazie mille ancora. Quindi parlerò di una bottega di pittori che sono stati molto attivi in area trentina, sono appunto dei pittori che hanno lavorato a Trento, però sono tradizionalmente considerati dei pittori di origini veronesi. Tuttavia, nonostante questa considerazione, non sono conservate opere di questi pittori a Verona, ma gliene sono state attribuite moltissime invece in area trentina. Per cercare un po' di capire di chi stiamo parlando, vi propongo un piccolo schema. Parlando prima di tutto di Bartolomeo Sacchetto, che doveva essere il capo di questa bottega, il primo che è arrivato a Trento, che si è stabilito lì e che ha poi dato vita a diverse opere. Alcune delle quali sono conservate, di altre invece non abbiamo notizia. Anzi, abbiamo notizia, ma solo a livello di documenti che sono stati reperiti, ma non di opere realmente conservate. Un'altra figura interessante è quella di Cristoforo e Giacomo Sacchetto. Non sappiamo con precisione chi fossero, nel senso che portano lo stesso cognome di Bartolomeo. Potrebbero essere suoi figli, o meglio Cristoforo potrebbe essere figlio di Bartolomeo, mentre di Giacomo abbiamo delle attestazioni a Verona, però ci viene indicato come figlio di Lorenzo Sacchetto e non di Bartolomeo. Lavorano insieme a partire dal 1477 a Trento e anche a Trento troviamo attestata la figura di questo maestro Valerio, che avremo poi modo di vedere. Si tratta di una figura molto problematica, nebulosa per certi versi, che è attivo come Bartolomeo a Trento a partire dal 1477. Il primo storico a parlarci di questi pittori è Simone Weber, che ne parla in due occasioni, nel 1927 e nel 1933. Vi riporto qui una citazione di una sua opera, di un suo studio realizzato nel 1933, all'interno di un volume che tratta la storia degli artisti trentini e artisti che operarono nel Trentino. Bartolomeo Sacchetto è definito come un pittore, di lui si servì il vescovo Giovanni Inderbach per adornare il palazzo Vescovile che aveva restaurato. Weber cita alla lettera i registri del Massaro Calepino, dove appunto sono indicati tutti gli interventi e i pagamenti delle opere che Inderbach realizzò al palazzo Vescovile, cioè il palazzo Pretorio di Trento, altresì riconoscibile come la sede attuale del Museo di Cesano Tridentino, quindi proprio nella piazza del Duomo. Nel 1478 Bartolomeo Sacchetto è occupato anche nelle decorazioni della cappella di Simonino e anche di questo abbiamo delle fonti molto precise che ci descrivono l'intervento realizzato, ma di questi due interventi, sia di quello di Palazzo Vescovile, sia di quello della cappella di Simonino, non abbiamo nessuna notizia a livello proprio di opere conservate, perché sono andate perdute in entrambi i casi. Invece la storia dei Sacchetto nel 1937 si intreccia a livello di critica con un'osservazione fatta da Nicolo Orasmo, il quale associa e lega la figura di questo pittore con le pitture realizzate all'interno della cosiddetta Sala di Amore a Castelpietra, a Cagliano. Rasmo in un primo momento dice che ignoto ne è l'autore, ma si deve ricercare in quella bottega operosa a Trento e nei dintorni negli ultimi decenni del Quattrocento. Esso sarebbe forse identificabile con uno dei pittori Sacchetto, di origine probabilmente veronese, ma operanti per lunghi anni a Trento. Quindi lancia un po' questa ipotesi che poi diventerà accettata in modo unanime dalla critica. Questa osservazione trova le sue basi nel fatto che i dipinti che troviamo a Cagliano sono intrisi di una cultura ornamentale diffusissima a Verona a partire dalle pitture che decorano la volta della Basilica di Sant'Anastasia. Infatti Rasmo cita proprio i freggi decorativi di tipo tardo-gotico che ricorrono nella stessa forma a Verona in Sant'Anastasia. Queste pitture che sono state realizzate probabilmente a partire dal 1437 da un'altra bottega di pittori veronesi, la bottega di Giovanni Badile, sono state il modello decorativo diffuso per moltissimi decenni a Verona, sia nell'ambito di pitture legate a chiese, ma anche palazzi, case, facciate di dimore private e ha trovato probabilmente a Trento i suoi ultimi risvolti all'interno degli ornati di Castelpietra. Ma a parte questa somiglianza a livello della cultura ornamentale che caratterizza i dipinti di questa sala, Rasmo riesce a reperire più avanti nel tempo, negli anni 70, un indizio ancora più concreto, cioè il Liber Bullectarum registra all'interno di una nota il fatto che questo pittore Bartolomeo, figlius Cristofori, pictor de Verona, venit de Cagliano a Trento nel 1469, quindi è la figura di questo Bartolomeo, figlio di Cristoforo, pittore di Verona, che arriva da Cagliano a Trento. La fonte non cita il cognome di questo Bartolomeo, quindi ancora una volta siamo nell'ambito dell'ipotesi, non è certo che questo Bartolomeo sia realmente il Bartolomeo Sacchetto di cui parlano le fonti successive, però sta di fatto che si tratta comunque di un pittore veronese che arriva a Trento nel 1469 e questi dipinti potrebbero essere stati benissimo realizzati prima del 1469, cioè in un periodo che va, secondo la critica, datato tra il 1465 e il 1468, ovvero in un periodo in cui il castello Castelpietra veniva ceduto da Inderbach a Baldassar Lichtenstein, che probabilmente fece realizzare questi dipinti in occasione del suo matrimonio. non si sa la data precisa in cui avvenne il suo matrimonio, però abbiamo appunto un dipinto che rappresenta una dama, lo vediamo rappresentato sulla destra, una dama che porta in mano i due stemmi delle famiglie che andarono a imparentarsi, cioè la famiglia Lichtenstein e Sponberg. Questi stemmi ricorrono anche nella parte alta della decorazione, sono sempre accompagnati da stemmi di altre famiglie nobili con cui erano imparentati e compare molto spesso anche lo stemma del principe vescovo Inderbach. Il tutto accompagnato da motivi decorativi di stampo tardogotico, con questi elementi floreali che sono tipici appunto di una cultura, di una fase decorativa che è molto diffusa in area veneta e veronese a partire dagli anni 30-40 del 400. Ovviamente per questioni di tempo non andrò a commentare nel dettaglio tutte le figure che sono rappresentate su queste pareti, ce ne sono alcune che fanno riferimento alla cultura letteraria classica, riletta in chiave medievale, quindi abbiamo la figura di Aristotele e Fillide, Sansone e Leone e il giudizio di Paride, ma ci sono anche delle scene che rappresentano proprio episodi legati alla vita di corte e agli sbagli della corte, come accade ad esempio in questa raffigurazione in cui troviamo rappresentata una scena di caccia, la parete, ho deciso di dividere la scena in tre sequenze che corrispondono appunto alle sequenze della caccia al cervo, quindi da questa parte troviamo la figura del giovane battitore, in testa, non so se riuscite a vederlo, porta una specie di coroncina fatta di ramoscelli, questo perché il battitore aveva il compito di nascondersi dietro i cespugli per stanare, richiamare la preda, ed è accompagnato dai cani da caccia e da un cacciatore a cavallo la cui figura è andata quasi del tutto perduta a causa del deterioramento della superficie pittorica, ma che comunque è ancora in parte visibile. Troviamo poi la figura del cervo che viene bloccato dai due cani e inseguito appunto dal cacciatore e si può notare con quanta precisione quasi miniaturistica venga resa questa scena e anche tutta la cura che viene rivolta nei confronti della rappresentazione del paesaggio montuoso che sembra proprio essere quello che circonda Castelpietra. E dall'altra parte invece troviamo la figura del balestriere che è impegnato appunto a lanciare una freccia contro il cervo. Sulla sinistra invece troviamo due dame che sono sedute in disparte e stanno osservando la scena, una delle quali ha anche un cagnolino tra le braccia. Questa immagine che può essere tranquillamente letta come una rappresentazione di una scena di vita di corte è stata interpretata da Antonio Morassi che descrive nel dettaglio le pitture nel 1934. I dipinti erano stati scoperti pochi anni prima. Viene descritta come l'immagine dell'uomo innamorato il cui cuore che è rappresentato simbolicamente dal cervo viene cacciato per essere poi donato alle dame. E quindi è una lettura che è ancora molto intrisa di un sapore ancora cortese e legato appunto alla cultura medievale. Troviamo invece in una nicchia proprio situata sotto la scena della caccia un'immagine invece che rilegge l'amore in modo più ironico e basata appunto sul contrasto tra la figura di quest'uomo che è ingabbiato mentre paradossalmente la Gaza si trova fuori dalla sua gabbia e probabilmente all'interno del cartiglio che porta nel becco lo sta invitando a non cedere, a non credere alle parole lusinghiere della dama. È di fatto un'immagine che rilegge in modo abbastanza ironico il tema amoroso dal momento che la Gaza stessa è simbolo di inganno e il fatto che consigli all'uomo di non credere alle parole della donna doveva evidentemente far nascere un monito un invito a tutti coloro che osservavano il dipinto ma anche probabilmente far solgere anche una risata. Così come una scena di carattere cortese è rappresentata dall'immagine del ballo dell'orso con il paggio anche qui si trattava di uno svago di corte il fatto di addestrare questi animali a ballare, muoversi a ritmo di musica e così come appunto su un'altra parete del castello troviamo rappresentati queste tre figure di musici la suonatrice di arpa il giullare e il suonatore di liuto dovevano appunto accompagnare e rappresentare al tempo stesso gli svaghi della corte la sala stessa poteva prestarsi a questo tipo di rappresentazioni più colte ma anche a ricevere comunque giullari e divertimenti vari a partire da Erasmo la critica non ha quasi mai messo in dubbio la paternità dei dipinti che sono stati appunto attribuiti alla bottega dei Sacchetto solamente Laura Dalpra negli anni 90 ha posto una serie di dubbi riguardo l'effettiva paternità di queste pitture e ha suggerito che i dipinti possano essere sì attribuiti a dei pittori di origini veronesi o venete ma ha espresso qualche dubbio riguardo la paternità dei Sacchetto soprattutto in relazione alle opere che sono state a loro attribuite in ambito in altri ambiti trentini in particolar modo le opere che tra poco vedremo hanno ormai un sapore che non è più tardo gotico ma è molto legato invece a ideali umanistici e rinascimentali Silvia Spada Pintarelli e Angela Mura invece hanno ribadito nel 2002 la paternità di questi dipinti da collegare ai Sacchetto portando una serie di prove tra cui secondo loro un indizio interessante potrebbe essere rappresentato dalla lettera S che troviamo rappresentata proprio vicino al calzare del del suonatore che potrebbe essere considerata un monogramma dell'artista successivamente gli studi comunque hanno sempre ribadito l'attribuzione di quest'opera ai Sacchetto con Etiochini principalmente si è cercato anche di ampliare il corpus di dipinti che possono essere da loro attribuiti cercando anche di di reperire dei dipinti che fino a quel momento non erano stati citati anche da da Rasmo infatti Rasmo nel 1937 sempre all'interno del suo studio riconosce come oltre ai dipinti di Castelpietra possano essere attribuiti ai Sacchetto anche altre pitture come ad esempio quelle della Casa dei Battuti sulla facciata della Casa Garzetti cioè Casa Balduini e anche nel Castello del Buon Consiglio e cita proprio il Cortile la Cappella Vecchia il Torrione sono tutti i dipinti che troviamo appunto a Trento per quanto riguarda i dipinti del Cortile del Castelvecchio ci troviamo di fronte come possiamo vedere a dipinti che non sono proprio uguali a quelli di Cagliano perché non troviamo più le scene figurative accompagnate da girali tardogotici con i tipici fiori e stemmi ma troviamo invece un aggiornamento dello stile in senso rinascimentale quindi queste ghirlande con nastri frutti e puttini intenti in varie attività di gioco di musica di svago che sono difficilmente confrontabili con le pitture che troviamo a Castelpietra comunque sia a partire dall'attribuzione fatta da Rasmo non sono stati non è stato mai messo in dubbio il fatto che queste pitture possano essere ascrivibili ad una cultura di carattere veneto soprattutto confrontandole con quella tendenza pittorica decorativa che si è sviluppata in ambito padovano soprattutto a partire dall'influenza donatelliana in città e il fatto anche che Inderbach avesse vissuto a Padova avesse respirato l'aria umanistica che si era diffusa nel periodo ha portato a pensare che fosse stato proprio il principe vescovo a veicolare l'utilizzo di questi ornati ormai di sapore rinascimentale realizzati da botteghe maestranze di origini venete troviamo quindi questi dipinti che non sono ben conservati e benissimo leggibili in alcuni punti l'unico a porre dei dubbi riguardo la paternità di questi dipinti ascrivibili a dei pittori veneti è stato Gerola che invece ha suggerito la presenza di una maestranza tedesca l'ha fatto perché tra le arcate sono rappresentati dei volatili che sono accompagnati da delle scritte in tedesco e questo lo aveva portato a pensare che l'intero ciclo fosse stato realizzato appunto da dei pittori di origini tedesche ma su questo non poi in seguito la critica ha smentito diciamo questa questa ipotesi suggerendo come nel caso di Serenella Castri la possibilità che a realizzare questi ornati fosse stata una compagine mista un po' ibrida formata da pittori veneti e pittori tedeschi locali e un altro tema però interessante da collegare con queste pitture sono gli ornati che decorano la casa di via San Marco che è stata reperita e cui ornati sono stati reperiti da Etiochini e questi ornati che sono molto rovinati perché comunque la casa ha subito e la facciata ha subito delle modifiche evidenti presentano però uno stile che è molto simile a quello presente nel Castelvecchio troviamo infatti questi elementi con le ghirlande decorative i puttini intenti in varie attività e accompagnati dai soliti nastri decorativi la cosa interessante è che invece nella parte alta del freggio troviamo invece un rimando a un gusto decorativo che può aver avuto lo stesso intento ornamentale che troviamo Castelpietra quindi un freggio con elementi floreali non si è conservato un granché però si può immaginare che a un certo punto si fosse creato una convivenza un po' ibrida tra lo stile di un tardo gotico ormai arrivato a un'età molto tarda e invece un insieme di ornati riferibili alla cultura rinascimentale oltre a queste pitture che ornavano il cortile del Castelvecchio all'interno del Buon Consiglio sono stati attribuiti anche altre opere ad esempio la serie dei Vescovi serie che era stata sempre voluta da Inderbach e che poi nel corso del Cinquecento è stata obliterata sostituita dalle pitture realizzate da Fogolino e all'interno della sala dei Vescovi all'interno del Castello del Buon Consiglio Gerolè è riuscito a recuperare lo strato sottostante le pitture cinquecentesche e ha riconosciuto in questi cinque Vescovi la mano di Bartolomeo Sacchetto lo fa in modo un po' arbitrario e un po' anche per salvarsi da un errore che aveva fatto nell'attribuire questi dipinti a maestro Valerio infatti leggendo le fonti citate da Weber in cui era stato espresso erano stati citati i registri del Massaro Calepino che dicevano appunto che Valerio aveva realizzato dei dipinti per il Balazzo Vescovile Gerolè aveva frainteso questa fonte aveva capito che invece si ritrava della sala Vescovile del castello del Buon Consiglio e quindi aveva attribuito questi dipinti a maestro Valerio successivamente nel 1934 si corregge però dice che comunque potrebbero essere attribuibili a Bartolomeo Sacchetto di questo però non c'è alcuna prova documentaria a livello in grado di dimostrare questa tesi che non è mai stata né confermata né smentita dalla critica così come anche secondo me da riprendere in mano è la questione degli ornati che decorano la cappella inderbacchiana i quali sono sempre stati attribuiti da rasmo all'attività del Sacchetto sono dei dipinti di difficile valutazione rappresentano i vescovi i padri della chiesa rasmo li attribuisce ai Sacchetto non tanto per un'analogia a livello di immagini tra tra Cagliano e e appunto queste queste raffigurazioni ma dice che a livello decorativo reperisce un dipinto che si trova all'interno dello sguancio della finestra della cappella questo dipinto che troviamo appunto al centro della slide secondo lui sarebbe confrontabile con un dipinto che troviamo ornamentale che troviamo all'interno di una nicchia di Castelpietra e ci dice appunto che questa analogia potrebbe portare a pensare che il Sacchetto fossero stati artefici di queste pitture però di fatto non abbiamo alcuna certezza al riguardo e così come anche per quanto riguarda i dipinti che decoravano il torrione RASMO ci appunto fa riferimento a questo freggio decorativo doveva essere un freggio lo vediamo qui sulla sinistra che decorava esternamente il torrione all'interno del Castello del Buon Consiglio attualmente poi con le modifiche che sono state effettuate nel corso del tempo questo dipinto ha smesso di essere di fatto un dipinto d'esterno perché è stato inglobato all'interno di un ambiente interno al Castello un ambiente di servizio si trova infatti all'interno della Guardiola dei Custodi non è neanche in buonissime condizioni ma comunque ci fa sempre riferimento a quella cultura ornamentale di stampo tardogotico che abbiamo visto a Cagliano e che è visibile in molti casi in ambito veronese Salvatore Ferrari mi ha segnalato anche un'analogia tra questi dipinti che dovevano decorare il torrione in derbacchiano con un freggio decorativo che si trova all'interno del sottarco della sacrestia della chiesa di San Lorenzo a Trento simile doveva essere il gusto decorativo anche a livello cromatico di questo freggio ornamentale si è conservato solo qualche lacerto quindi azzardare ipotesi attributive è abbastanza complicato tornando invece ai dipinti di facciata di case nobiliari private ci ritroviamo di fronte a un altro esempio che è stato preso in esame da Rasmo cioè le pitture di casa Balduini Rasmo dice infatti che già da parecchi decenni una delle più pittoresche case che ornano la piazza del Duomo mostrava per tutta la facciata tracce di pregevoli affreschi decorativi che per quanto in triste condizioni rivelavano la mano del pittore che aveva decorato sul finire del 400 con puttini festoni animali il cortile di Castelvecchio a Trento e che si può forse identificare con uno degli autori degli spiritosi affreschi cavallereschi di Castelpietra a Cagliano si tratta infatti dei dipinti che decorano la facciata di Palazzo Balduini che sono annoverabili tra i più antichi dipinti di facciata che si siano conservati in modo quasi integrale a Trento si tratta di dipinti che ci propongono sempre un duplice registro decorativo quindi un ibrido che abbiamo già visto nella casa di via San Marco infatti nel freggio che decora tutto il contorno della facciata ritroviamo un insieme di girali floreali che danno appunto questo carattere decorativo ancora legato al mondo del tardo gotico mentre nella parte centrale troviamo questi ornati con festoni di frutti fiori nastri che invece abbiamo visto anche nel cortile del Castelvecchio a differenza di quell'occasione però qui i puttini scompaiono troviamo appunto solamente queste ghirlande con frutti e un riferimento importante ci arriva dalla rappresentazione dello stemma che qui è poco leggibile ma è stato identificato come lo stemma di Arcangelo Balduini che era il proprietario della dimora e che nel 1468 aveva ottenuto il diploma di nobiltà e di conseguenza si fa si decide di rifare la facciata della sua casa con queste pitture ornamentali Arcangelo Balduini è anche il medico privato di Johannes Inderbach e quindi ancora una volta rientra l'ipotesi che Inderbach fosse stato un catalizzatore di tutte queste istanze decorative di questo gusto decorativo che si era ampiamente diffuso a partire dal Castello del Buon Consiglio per poi diffondersi in tutta la città e tra l'altro è interessante degno di nota anche se meriterebbe un ragionamento a parte il fatto che anche all'interno di casa Balduini sono conservate delle pitture c'è tutto un freggio decorativo che decora vari ambienti della dimora si tratta di decorazioni che nel gusto possono essere collegate con le pitture di Cagliano e che troviamo anche in altri contesti residenziali decorativi ad esempio nella sala consigliare della canonica di Brentonico ritroviamo questi elementi decorativi che sono stati realizzati forse cercando di imitare lo stile dei sacchetto quindi in modo un po' più rustico ma che però comunque sono il segno che questa moda decorativa aveva avuto un'ampia diffusione e volendo invece andare alla a cosa dicono le fonti relativamente ai dipinti di palazzo pretorio realizzati da Bartolomeo Sacchetto la fonte sono i registri del Massaro Calepino che nel 1477 registrano i pagamenti che vengono effettuati a favore di questo Bartolomeo Sacchetto ed è la prima volta che compare il suo cognome perché nel Liber Bullectarum appunto viene solamente indicato come Bartolomeo figlio di Cristoforo questo appunto questo pittore viene pagato l'11 agosto per aver realizzato alcune pitture il 20 agosto viene pagato per 36 cantinelle e il 4 settembre viene le sue pitture vengono stimate da maestro Valerio non sappiamo perché appunto le fonti non ci spiegano né in quale sala decorassero del palazzo pretorio e nemmeno che cosa rappresentassero di fatto un indizio interessante è stato a mio avviso fornito da Serenella Castri che in una postilla di un suo saggio del 1996 scrive semplicemente pitture d'esterno cioè erano siamo sicuri che fossero delle pitture che decoravano internamente le sale o potrebbero essere anche pitture che decoravano esternamente il palazzo nel senso che comunque Trento è sempre stata una città dipinta le evidenze che troviamo oggi sono relative ai secoli che vanno dal 500 in poi ma anche nel 400 e forse anche nel 300 Trento presentava numerosi dipinti sulle facciate delle case il Duomo stesso come vediamo in questa immagine nella sua facciata nord presentava varie nicchie dipinte e questo a mio avviso potrebbe anche farci ipotizzare che anche il palazzo Pretorio potesse avere delle decorazioni che lo decoravano esternamente come avviene per casa Cazzuffi per casa Balduini per il Duomo e si tratta comunque di un'ipotesi perché comunque il palazzo è stato più volte rimaneggiato e anche se ci fossero state delle pitture sono sicuramente andate obliterate nel tempo nei registri del Massaro Calepino che ho avuto modo di consultare quando ancora ci si poteva muovere tra regioni ci si poteva spostare liberamente da un appunto che ho fatto tra le mie ricerche mi sono segnata il termine Solon tra le indicazioni di pitture che erano state stimate cioè mi sembrerebbe plausibile pensare e questo va comunque verificato perché non ho più avuto modo di consultare quei registri per motivi che ben sappiamo di appunto leggere la parola Solon e quindi mi sono chiesta se magari questo Solon facesse riferimento al legislatore Solone ovvero al fatto che tra le pitture presenti all'interno del palazzo ci potesse essere anche la rappresentazione di un legislatore il palazzo pretorio era sede dell'amministratore della giustizia civile e di conseguenza potrebbe non essere del tutto fuori luogo il fatto che potesse essere stato rappresentato Solone però appunto è un appunto che dovrei e spero di aver modo molto presto di verificare nuovamente per quanto riguarda invece maestro Valerio anche lui viene registrato per una serie di pagamenti che vengono fatti a suo favore realizza diverse cantinelle realizza lo stemma del vescovo Inderbach e del Podestà perché il palazzo pretorio era anche sede del Podestà e soprattutto le sue pitture che comprendono anche quattro evangelisti vengono stimate e questo ce lo dice i registri il 14 settembre del 1480 da Jacopo e figlio Sacchetti pittore ed ecco che per la prima volta compaiono anche le figure di questo Giacomo e di questo figlio del pittore Sacchetto all'interno delle polizze che vengono trascritte da Weber e indicate nel 1927 si spiega che questi pittori furono Magistros Iacobum et Christophorum Sacchettum Pictores Italicos e Tali non reperiuntur e di conseguenza qui ci danno delle informazioni più dettagliate riguardo la figura di questi due pittori per la prima volta compare appunto anche il nome di Cristoforo che quindi potrebbe essere il figlio di Sacchetto citato nell'altra fonte e vengono definiti appunto Pictores Italicos e quindi questo dato è stato utilizzato appunto dai critici per suggerire ancora una volta le origini veronesi di questi due maestri e anche nell'altra fonte nella polizia sottoscritta da Valerio si citano ancora una volta Iacomo e Cristoforo Sacchetto quindi in questi ultimi minuti vorrei dedicarmi a questi tre artisti sconosciuti partendo da maestro Valerio già Weber nel 1927 getta la spugna lo definisce un pittore del quale ignoriamo patria e paternità Gerola suggerisce che fosse un pittore forse da Fiemme però su questo non abbiamo non ci dice in base a cosa da cosa nasce questa affermazione Morassi dice che è un pittore esumato dai documenti e non meglio noto e poi prosegue a citare Weber Rasmo lo definisce un pittore locale quindi ancora una volta la critica è unanime nel definire Valerio come un pittore di origini trentine e non veronese Silvia Spada Pintarelli e Angela Mura dicono che era un collaboratore della bottega in cui lavoravano anche i figli di Cristoforo e Giacomo Serenella Castri fa un po' un sunto di tutto però riconosce anche una certa indipendenza del pittore che lavora più a lungo dei sacchetto sempre alle dirette dipendenze del vescovo e non certo in posizione a questi subalterna in effetti Maestro Valerio è attestato fino al 1484 invece Bartolomeo Sacchetto fino al 79 e invece una figura interessante è quella di Giacomo Sacchetto è l'unico forse di cui riusciamo a ricostruire l'identità anche in ambito veronese è l'unico pittore che viene citato anche all'interno degli estimi veronesi sempre ammesso che non sia stato un caso di omonimia ma non credo gli estimi lo definiscono come figlio del fu Lorenzo Sacchetti quindi non figlio di Bartolomeo ma di fatti anche nei registri del Massaro Calepino non viene definito figlio di Sacchetto ma soltanto Cristoforo è chiamato così è un pittore che lavora a Verona presso la contrada di San Silvestro stimato a Verona nel 1473 nel 1482 e nel 1495 il 20 marzo del 1494 è in competizione con Antonio Badile per la creazione di una mappa commissionata dalla battia di Santa Maria in organo il 22 aprile del 1499 realizza un'Ancona per la confraternita di San Francesco di Legnago nessuna di queste opere ovviamente è conservata e questo ci pone sempre ancora una volta di fronte a un vicolo quasi cieco nel senso che comunque abbiamo la percezione almeno che questo pittore abbia avuto effettivamente un legame con Verona e probabilmente come ci dicono i registri e le polizze anche a Trento per quanto riguarda invece la figura di Maestro Cristoforo un'ipotesi attributiva è stata proposta da Silvia Spada Pintarelli e ripresa poi da Marina Botteri Ottaviani Silvia Spada Pintarelli analizzando i registri libri giornali conservati a Riva del Garda ha riconosciuto l'esistenza di un magister Cristoforus Pictor che nel 1476 e nel 1478 viene pagato per alcune pitture realizzate presso il palato comunale di Riva eseguite com socio suo Silvia Spada propone anche di identificare queste opere con questi due dipinti staccati e conservati nel museo dell'Alto Garda di Riva del Garda riconoscendo come probabilmente a suo avviso questo maestro non fosse un maestro originario di Riva ma si fosse trovato occasionalmente a lavorare lì tant'è che negli estimi non è presente e che il suo socio di cui fanno riferimento le fonti altro non sarebbe che il maestro Giacomo Sacchetto con cui aveva lavorato anche a Trento Silvia Spada propone anche di confrontare questa figura femminile con i dipinti di Cagliano riconoscendo come magari l'artista si potesse essere aggiornato a livello stilistico nel tempo ma le sue pitture abbiano comunque mantenuto un legame con la sua formazione veronese e goticheggiante e un'altra ipotesi attributiva o meglio un'altra indicazione è stata fornita da Eziochini il quale ha riconosciuto nei frammenti di dipinti che decorano la facciata di palazzo Noriller a Roveretto uno stile che è di fatto lo stile dei Sacchetto ho avuto modo di occuparmi anch'io nel dettaglio di questi ornati in occasione della tavola rotonda della pubblicazione legata a palazzo Noriller e diciamo che il giudizio va a mio avviso un po' sospeso nel senso che sarebbe suggestivo pensare che questa bottega di artisti più giovani cioè Cristoforo e Giacomo potessero aver lavorato a Riva e poi anche a Roveretto però di fatto i documenti non attestano la presenza di questi artisti in ambito roveretano si può però riconoscere come questo stile ibrido che prevede una convivenza tra gli stilemi del Tardo Gotico e un influsso invece più rinascimentale sia comunque tipico di un gusto decorativo che si era ampiamente diffuso a Trento e che magari poteva aver avuto anche degli imitatori in ambito locale e in ultima analisi cito i dipinti che vengono realizzati all'interno della Cappella del Simonino si tratta di dipinti che come i dipinti del Palazzo Vescovile non sono più ahimè conservati però i registri dell'offerta della Chieto di San Pietro ci descrivono i pagamenti che vengono fatti a favore di Bartolomeo Sacchetto relativamente ad alcuni dipinti in particolar modo il 23 aprile del 1478 Bartolomeo viene pagato per aver realizzato alcuni episodi della Passione di Cristo e Scene del Martirio del Piccolo Simone inoltre il 13 febbraio del 1479 finalmente abbiamo un'indicazione di dove vivesse questo pittore che viene definito inquirino domus beati Simonis però appunto dopo questa indicazione Bartolomeo Sacchetto di fatto sparisce dalle dalla scena non è più citato all'interno dei documenti e in altri pagamenti non sappiamo di fatto nemmeno se fosse rimasto a Trento e per quanto tempo invece il maestro Valerio viene citato fino al 1484 e quindi alla fine di questo viaggio un po' complesso spero di essere stata abbastanza chiara e che siate riusciti a seguire un po' i vari le varie tappe di questo percorso di questa analisi si possono trarre varie conclusioni la prima è che comunque in un certo periodo di tempo negli anni 70 del 400 a Trento si era diffuso uno stile decorativo che viveva un po' a cavallo tra il mondo rinascimento tardo-gotico ampiamente utilizzato a Castelpietra a Cagliano questo stile conviveva di fatto con invece uno stile più aggiornato legato invece al mondo del mondo rinascimentale e tutti questi elementi decorativi avevano avuto come tramite una bottega che era stata molto apprezzata dal principe vescovo Inderbach che aveva appunto favorito lo sviluppo e la diffusione di questi ideali decorativi sia in città ma anche in ambito provinciale ecco quindi adesso io chiuderei la presentazione non è Grazie.